Ma che fai? Ciao Dai, buona Allora, come stai il mio ragazzo? Fidanzato, si dice Che stai facendo? Niente Non sarà... Ora... Non sarà un'altra lista? Cosa? Se è una di quelle liste da maschilisti, giuro che ti... No, 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 non c'entra niente, tranquilli Ah, allora che cos'è? Mi fai leggere? No, 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 scusa, che ne dici se uscissimo come due fidanzati? Un bel locale, me lo prometto Sarà un locale speciale, il topo se vuoi Aspettami qui, vado a prepararmi come si deve D'accordo Vado Lista ufficiale di Tiago Bedagia Aguero Evitare le imitazioni Cose che voglio fare prima di morire Radermi la testa, uscire da un ristorante senza pagare Comporre la canzone perfetta Stare più tempo con Mar Sposarmi con Mar Avere dei figli con lei Vedere un ghiacciaio Partecipare a una dimostrazione Qualunque essa sia Volare in parapendio Sfondare con il mio gruppo 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 Sfondare con il mio gruppo